Filippo, siamo di nuovo assieme perché c'è un'altra grande novità, anzi due, che riguardano Synergy e Lella Sverona. Intanto grazie per l'ospitalità perché in questo momento ci troviamo all'interno della sede Synergy. Beh, innanzitutto grazie a voi e benvenuti, visto che oggi ho per la prima volta l'onoro di aspettare voi qui a casa di Synergy. Sì, c'è un'importante novità che è un ulteriore consolidamento di questa partnership che ormai sta diventando una partnership molto importante che è quella di legare il nome di Synergy alla squadra femminile e alla squadra primavera. Hai fatto tu la premessa, io la completo, siete diventati i main sponsor della primavera e dell'Ella Sverona Women della prima squadra. Il perché di questa scelta? Allora, è una scelta che tende sempre di più a rafforzare il progetto che è iniziato quattro anni fa, che è stato quello di legarsi all'Ella Sverona e sempre di più l'obiettivo è di diventare veramente il partner principale del mondo Ellas e di collaborare con l'Ella S a 360 gradi. Cioè l'obiettivo è quello che Synergy diventi veramente il primo punto fondamentale di riferimento per quanto riguarda il mondo dell'Ella Sverona. Oltre a questa spiegazione che è la scelta generale di Synergy, scendendo più nel particolare, la scelta di appoggiare e sostenere l'Ella Sverona Women prende spunto dal fatto che comunque il movimento femminile è un movimento in crescita, è un movimento di cui si parla sempre di più. Noi è il quarto anno che affrontiamo la partnership con il mondo Women, è un movimento in costante crescita, c'è il rammarico che negli ultimi anni chiaramente ha subito anche questo movimento, un processo di rallentamento legato a tutto il tema pandemico che ci ha relegato a una vita diversa, però il movimento è in costante crescita, io poi le seguo personalmente ed è un movimento in cui io credo molto e auspico che da qui i prossimi anni i tassi di crescita possono aumentare ancora. Parlando invece in più generale dell'Ella Sverona Women, quindi del Verona, ti chiedo il fatto che comunque l'Ella Sverona Women abbia nel suo interno la prima squadra, parlo ovviamente tante ragazze veronesi e cresciute nel settore giovanile appunto del Verona, può prendere spunto anche come legame con Synergy il fatto di avere delle basi solide, quindi delle ragazze che possono affrontare i campionati che verranno per poi appunto superare le difficoltà che si presentano? Può essere legato all'idea di Synergy? Beh guarda l'idea di Synergy è quella di avere una importante cultura del lavoro e l'età media diciamo di tutti i dipendenti, di tutti i collaboratori che operano Synergy è un'età media molto giovane, molto giovane rispetto ad un'azienda normale e questo mi identifica molto in quello che diciamo è il settore femminile e è tutto diciamo il movimento che lo lega. Passando la palla, visto che stiamo parlando di calcio, quindi ci sta la metafora alla primavera quest'anno appunto la nostra primavera a fronte al campionato di primavera 1 campionato molto competitivo ma che ha anche molta visibilità. È stato il motivo principale per il quale Synergy ha deciso per la prima volta perché è il primo anno che intraprendiamo il percorso con la primavera e di legarsi e io già da qualche anno seguo la primavera e diciamo la promozione di quest'anno mi ha indotto a fare ulteriore questo investimento perché comunque la visibilità quest'anno della primavera è veramente una visibilità molto importante. Mi hai un pochino anticipato per la prossima domanda perché volevo toccare un po' il tuo lato quello passionale, insomma si sa sempre sei vicino a quello del Verona non solo come Synergy ma anche come Filippo, quindi la domanda appunto era riguardante la cavalcata della primavera dell'anno scorso, quando ti ha appassionato e se questo è stato anche questo insomma parte della scelta tua? Sì, il percorso dell'anno scorso ma anche dell'anno precedente della primavera è stato un percorso entusiasmante e secondo me è frutto del lavoro del Ministro Corret ma anche di Marzotta che comunque hanno lavorato bene, stanno lavorando bene sul settore giovanile e i risultati sono comunque sotto gli occhi di tutti. I giovani, considerando l'età media delle nostre ragazze e della primavera, sembrano essere al centro dell'interesse di Synergy, perché? Sì, la strategia di Synergy sul mercato nel quale operiamo, che è un mercato molto competitivo, mira comunque all'acquisizione di una clientela giovane, di una clientela smart, infatti noi investiamo molto in tutto quello che è tutto il mondo della comunicazione, dei social, perché puntiamo a una clientela smart, una clientela giovane che abbia comunque nell'utilizzo dell'energia una filosofia diversa rispetto a quella classica che l'utente finale ha. Per chiudere Filippo, considerando la vostra attenzione per i nostri colori, questo direi che è abbastanza visibile da tutte le parti e la vostra indiscussa importanza invece per noi, per l'Ellas, quanto è bello essere sulle nostre maglie e quanto conta invece il nostro territorio per Synergy? Allora, per quanto riguarda la presenza sulle maglie è un fattore di grande orgoglio, perché comunque dietro a una strategia aziendale, a un obiettivo di comunicazione e di espansione c'è comunque anche una fede importante. Ed è importante ricordarlo, ma è perché dopo qualche anno comincia a dare un po' le cose per scontato e ogni tanto ricordarlo che sei uno dei punti di finimento principali è sempre importante. Verona è, oltre che essere la casa di Synergy, perché Synergy è nata a Verona, comunque il territorio per noi è fondamentale, infatti operiamo molto sul territorio sia con l'Ellas Verona sia comunque anche con altre realtà al di là del mondo dello sport per fidelizzarla sempre di più con questo territorio. Grazie Filippo. Grazie a voi.